Ciao a tutti, io sono Moreno Zampieri, responsabile tecnico della divisione professionale di Bose e in questa edizione di Audio Forum Bose ha presentato l'idea alla base del proprio sistema intero via che è un sistema a norma N54 e N724019, cioè tutte quelle norme legate a sistemi di audio e sicurezza di evacuazione. Perché dico l'approccio Bose? Perché l'approccio Bose è sostanzialmente quello di fare comunque audio di qualità, quindi l'approccio opposto a quello che tradizionalmente si utilizza negli anni eva, cioè normalmente un sistema eva che è un sistema che suona non importa come, basta che comunque l'interdietà sia rassicurata e poi altre caratteristiche che non si può spiegare, però la qualità acustica è un dettaglio non determinante, e questo fa sì che normalmente un sistema di evacuazione alle nostre orecchie non suoni proprio sull'indemente. L'approccio Bose è esattamente il contrario, prima Bose presuppone che l'impianto deve essere un impianto che suona bene, full range, con lo stesso SPL, eccetera, eccetera, e già che ci siamo un impianto che sia anche a norma secondo le normative vigenti legate ai sistemi di generazione incendio, piuttosto che appunto sistemi classici di allarmi di evacuazione. In questo contesto ho notato che, diciamo, come tema era strano, nel senso che ho notato nei miei speech persone non direttamente legate a questo tipo di ambito, perché era più che altro gente interessata da parte, diciamo, di trattamento acustico, ambientale, in cui Bose è un metodo, in cui Bose, come tutti i sistemi integrato, l'aspetto ambientale è un dato di fatto non modificabile. Però ho notato che, nonostante, diciamo, gli ascoltatori non fossero prettamente legati a questo ambito, però le domande sollevate erano tantissime, quindi vuol dire che è comunque un tema che sta diventando sempre più di interesse, perché ormai l'Italia in ambito europeo deve per forza confacersi alle normative che sono previste per grandi installazioni, tra cui appunto le normative legate ai sistemi di evacuazione. Quindi avere la possibilità di trovare una soluzione che al tempo stesso è in linea con le normative ma che in più suona splendidamente è una cosa che è aggiuntata nuova per chi mi ha ascoltato. Quindi, secondo me, in un futuro tutti questi semi che abbiamo installato nelle menti delle persone che ci hanno ascoltato, magari attrecheranno le nuove opportunità.